Buongiorno a tutti, grazie per essere intervenuti in tanti a questo evento. Io sono Mauro Lenzi del Present Digital Innovation Hub di Bologna e dopo aver visto con il professore una base teorica e alcune informazioni su tutto quello che c'è dietro l'intelligenza artificiale generativa vedremo un po' alcune applicazioni della stessa e alcuni elementi importanti dopodiché faremo un approfondimento su quelle che sono le piattaforme esistenti per sviluppare soluzioni di intelligenza artificiale generativa e faremo una drill down, in questo caso, sulla piattaforma Microsoft Azure OpenAI e con questa vedremo anche alcuni esempi concreti di che cosa si può fare. Bene, diciamo innanzitutto che questa nuova tecnologia ha tutte le caratteristiche per essere uno di quegli eventi disruptive, cioè dirompenti in quanto la velocità e la portata dell'impatto di questa tecnologia potrebbe non avere precedenti o perlomeno averne molto pochi. Alcuni dati che ci indicano questo, per esempio, sappiamo che rispetto al monte totale di investimenti sull'intelligenza artificiale quasi il 30% di essi dovrebbe essere indirizzato per il prossimo anno, 2024-2025 proprio su ricerca e sviluppo di intelligenza artificiale generativa. Un altro indice molto interessante è che fino all'80% delle imprese oggi sta lavorando o sta quantomeno testando le possibilità date dall'intelligenza artificiale generativa e pianifica di utilizzarle. Quindi si parla di early adoption su larga scala. L'impatto di queste innovazioni potrebbe essere tale. Alcuni dicono che nel giro di 10 anni si potrebbe avere un incremento del 7% del PIL globale su tutto il mondo. Quali sono quindi i task più comuni in cui trovano applicazioni queste tecnologie? Beh, all'esempio uno molto interessante consiste nel far apprendere contenuti da documenti specifici o dinamici e creare dei chatbot o delle funzioni in grado di rispondere in modo intelligente a domande. e quindi si può costruire, ad esempio, questo può essere di ausilio a un servizio di assistenza ai clienti oppure chi debba, ad esempio, riparare una macchina automatica. Un altro tipico esempio è quello della creazione automatica di riepiloghi e riassunti, ovvero si prende un testo, lo si fa analizzare da sistemi di intelligenza artificiale generativa e da questi si trae un riepilogo di quello che è il contenuto della conversazione o del documento che può essere utile, ad esempio, per contratti oppure per riepilogare una conversazione o le clausole di una polizza assicurativa. Ovviamente c'è poi tutto il discorso della generazione vera e propria di nuovi contenuti per scrivere mail oppure creare campagne di marketing, descrivere un annuncio di ricerca di lavoro, o dei post o degli interi articoli da poi pubblicare su internet o divulgare in varie modalità. Un altro ambito interessante è quello del riconoscimento di entità specifiche, per cui da un documento, sempre come può essere una mail, un'analisi, un report finanziario, riconoscere, ad esempio, il nome o l'indirizzo di posta di chi ha inviato la mail, nel caso appunto di messaggi di posta, oppure riconoscere l'azienda o riconoscere altre informazioni, indicatori utili, da estrarre automaticamente da un report finanziario o da una relazione di bilancio. Infine, tutto un discorso di possibili classificazioni di archivi, prendendo testi non strutturati ed andarlo poi a categorizzare sulla base di categorie del sentiment dei testi, oppure di altre tipologie di contenuti. Il ritorno degli investimenti, nel caso di questa tecnologia, può essere molto elevato, come viene evidenziato in questa slide. Ad esempio, nel terzo caso, quello del Customer Service, l'introduzione di chatbot o di sistemi di assistenza alle risposte che vengono fornite, può creare un aumento dell'accuratezza e migliorare il sistema del 95%. Un altro esempio molto eclatante è quello di attività di back office, che consentono di migliorare il lavoro, la qualità e la produttività, analizzando in automatico documenti, e-mail, eccetera, fino ad aggiungere una riduzione del 90% del lavoro da effettuare manualmente. Vediamo ora alcuni elementi architetturali che caratterizzano una soluzione basata su intelligenza artificiale generativa. Dovremmo avere sicuramente un layer computazionale, con risorse proprie, hardware, oppure acquisiti via internet e quindi via cloud. Dovremmo disporre di modelli che potremo generarci da soli, oppure più facilmente adottare mediante servizi offerti da terzi, un'infrastruttura per organizzare tutto il sistema, con tool e quanto serve per governare l'applicazione, e infine un livello vero e proprio applicativo, in cui vado a svilupparmi in casa, ad acquistare o a integrare le applicazioni che adotteranno poi tutto il stack. Vediamo ora un rapido accenno all'hardware che viene utilizzato per questo tipo di soluzioni. Accanto a quella che è la classica computer basato su una CPU, come può essere la CPU dell'Inter, i7, eccetera, troviamo dell'hardware dedicato da fare in maniera rapida i conti e il training dei sistemi. Fra questi troviamo le GPU, che sono le graphical processor unit, che sono quelle che trovate nelle schede anche dei PC per gestire tutta la parte grafica e per accelerare ad esempio i giochi, quindi vengono da quel mondo lì, e vengono anche dal mondo dei sistemi utilizzati in ambito ad esempio blockchain, e le TPU, tensor processor unit, che sono specificamente dedicate a operare in maniera efficace su calcoli tensoriali, che sono calcoli, diciamo, un tensore un po' nell'estensione di un vettore e sono il tipo di operazioni matematiche alla base di tutti i modelli di intelligenza artificiale. E questo per quanto riguarda un hardware proprietario. Se poi dopo invece si vuole utilizzare altre possibilità, noi ad esempio qui in Emilia Romagna abbiamo il Tecnopolo, dove c'è Leonardo, che è un computer di livello exascale, vale a dire un sistema in grado di eseguire un miliardo di miliardi, cioè 10 alla 18 di operazioni a virgola mobile. In futuro, in futuro ci saranno anche cose ancora più veloci e più rapide in grado di soddisfare questo tipo di esigenze computazionali. Parlo in particolare di quelli che sono il quantum computing, cioè i computer quantistici, che nel giro di 5, massimo 10 anni, pentiranno di disporre di una potenza computazionale in grado di crescere in modo esponenziale rispetto a quella attuale e di risolvere problemi estremamente complessi che richiederebbero oggi decine o centinaia di anni in pochi minuti. Un altro vantaggio non trascurabile dei computer quantistici è quello del risparmio energetico. Infatti, ci sono degli studi in cui già si stima un risparmio di 557 mila volte rispetto a quello che è la richiesta energetica dei computer basati sulle tecnologie attuali. Quanto costano questi sistemi? Vediamo, ad esempio, tre numeri relativi al chat GPT. Sono stime, non sono numeri certi, però non credo che ci siamo molto lontani. Ogni volta che si fa il training si va a costi per circa 100 milioni di dollari. In più, l'infrastruttura che fa funzionare chat GPT si stima che costi circa 700 mila dollari al giorno e che ogni query che viene fatta da un utente che si collega al sistema venga a costare 0,36 centesimi. può sembrare una cifra bassa ma se in realtà andiamo a fare un confronto ad esempio con Google col motore di ricerca di Google in cui vengono fatti ogni giorno 3,5 miliardi di query ebbene, ecco, se noi queste query qui le facessimo interrogando chat GPT il costo sarebbe sette volte più alto quindi immaginate un po' di che cifre stiamo parlando. Naturalmente uno può pensare di farsi anche un training sul cloud e quindi di prendere delle macchine performanti magari con appunto a bordo GPU o TPU pagandole esattamente solo per quanto le utilizzo quindi ottimizzando i costi complessivi per fare questo però bisogna stare molto attenti che ovviamente più le macchine sono potenti più hanno un costo orario alto vedete qua costi che vanno dai 50 centesimi di dollaro fino ai 3, 4 ma anche ai 7 dollari per ora dall'altra parte abbiamo il tempo che serve per fare il training del nostro sistema ovviamente se abbiamo macchine molto potenti ci metteremo meno tempo ma spenderemo più soldi rispetto a macchine meno potenti che richiedono più tempo dovremo quindi dosare in modo opportuno il rapporto tra la potenza della macchina che andiamo ad acquistare sul cloud e il tempo che ci serve per addestrare il nostro modello vorrei ora dedicare qualche slide per approfondire un po' le differenze fra quelli che sono dei modelli generici come il già citato più volte chat GPT e i modelli specialistici cioè modelli di intelligenza artificiale generativa creati appositamente su uno specifico dominio nel mio esempio ho preso come dominio tutto quello che è il mondo fintech cioè l'analisi finanziaria e quello che si può fare con l'elaborazione del linguaggio naturale in questo ambito esempi potrebbero essere quelli di capire ad esempio il sentiment di quelle che sono notizie che sono catturate e vengono pubblicate su internet ad esempio una notizia come un'azienda XY che licenzia 5.000 persone questo tipo di informazioni nei confronti dell'azienda XY potrebbe avere un sentimento normalmente negativo in quanto c'è purtroppo tante persone tante famiglie che perdono una fonte di reddito ma in alcuni casi in ambito finanziario potrebbe anche essere una notizia che ha risvolti positivi perché dimagrendo licenziando delle persone potrebbe aumentarne la redditività quindi non è così scontato il sentiment di una news di questo tipo altro esempio si parlava prima del riconoscimento di entità in questo caso qui all'interno dei documenti può essere necessario conoscere i ticker cioè le abbreviazioni con cui le aziende si presentano in borsa il nome delle organizzazioni i nomi dei manager e così via oppure capire classificare tutte queste news o notizie che vengono prese da tweet da post eccetera per capire se questa notizia qui può essere utile a far crescere o no i prezzi oppure se possono essere utili a un futuro incremento di prezzo o un aumento degli asset ovviamente il tutto poi può servire per rispondere a domande fatte in linguaggio naturale in questi ambiti ecco vedete da questo schermo che poi possono esistere anche misure intermedie per questo faccio questa freccia che va da sinistra a destra cioè si può pensare di adottare domini specificatamente addestrati ad esempio sul settore fintech da un lato generici dall'altro oppure vie intermedie perché un modello estremamente specifico può essere performante ma solo nello specifico contesto e per contro ha il vantaggio di richiedere risorse non troppo elevate dall'altra parte l'utilizzo anche di informazioni quindi la costruzione di un modello più generico può performare in contesti multidisciplinari quindi non solo quello dello specifico ambito ma richiedere risorse computazionali particolarmente elevate c'è da dire che modelli generici come ad esempio il solito chat GPT proprio non dà risposte di tipo finanziario qui vedete rappresentate la risposta che mi è stata data alla domanda mi conviene investire su azioni della Disney e chat GPT mi ha risposto che come assistente AI non può fornire consigli finanziari o di investimento specifici e mi ha poi dato tutta una serie di informazioni abbastanza generiche sulla Walt Disney qui più in dettaglio vediamo cosa può servire un modello specifico di FinTech può servire per fare consulenza finanziaria personalizzata per fare trading quindi prendere decisioni su azioni da acquistare o da vendere per ottimizzare il proprio portafoglio per fare valutazioni sul sentiment di specifiche aziende per gestire il rischio o anche per rilevare o anche per rilevare frodi finanziari quindi magari dichiarazioni o documenti non veritieri per valutare l'affidabilità creditizia e problemi di insolvenza ma anche cose più specifiche come per esempio capire se ci sono news che facciano presuppore fusioni o acquisizioni tra aziende per valutare punteggi ad esempio SG quindi quanto le aziende siano attive in ambito sociale o ambientale e anche non ultimo per fare education in ambito finanziario vediamo ora due esempi di language model in ambito fintech il primo è un esempio proprietario si chiama Bloomberg GPT è stato appunto creato dalla Bloomberg con scopi di profitto e è stato creato con tecnologie trained from scratch cioè si è partiti dai dati dai data set iniziali e si è costruito tutto il modello da zero e quindi ha richiesto un tempo di training molto elevato e ovviamente degli investimenti molto impegnativi dall'altra parte un esempio completamente diverso è FinGPT che è un progetto che nasce con una filosofia open e quindi un progetto open source no profit e è stato trainato con tecnologie di fine tuning quindi non da zero ma partendo da large language model generici poi specializzato su temi fintech e ha il vantaggio non trascurabile di essere rapidamente aggiornabile e quindi praticamente ogni giorno può essere rilanciato e anche poco costoso e se guardiamo un attimo nel dettaglio Bloomberg GPT fra l'altro c'è un paper che vi consiglio di andare a vedere che si chiama proprio è large language model for finance in cui viene descritto tutto la nascita e la costruzione di Bloomberg GPT che come potete vedere da questa slide è costituito da un insieme di dataset finanziari che ne copre l'incirca il 51% di tutti insieme dei dati su cui è stato trainato e dataset generici che coprono circa l'altra metà dei dati di training quali dataset sono stati presi per specializzarlo notizie web news dati di bilanci e file ufficiali informazioni della stampa e lo stesso database della Bloomberg dati che spaziano in un range che va fino a luglio 2022 come dataset generici invece è stato preso ThePile che è un set di dati di modellazione linguistica open source quindi disponibile a tutti il che costituisce quasi 825 gigabyte di dati e C4 che è un altro dataset molto utilizzato in questo ambito e Wikipedia l'intero corpus di Wikipedia FinGPT per conto suo è uno stack molto interessante e molto complesso che parte da come dicevamo tutto un insieme di data source dai language model esistenti su cui viene poi fatto un file tuning e su cui gira tutto un insieme di applicazioni per andare poi a utilizzare e a gestire tutto lo stack di questo progetto la cosa interessante è che appunto il sistema può essere ritrainato con circa 17 ore di una macchina abbastanza poco costosa che si può prendere su AWS con un costo di circa 18 dollari e che quindi può essere ritrainato come dicevamo prima tutti i giorni quindi magari è un po' meno preciso o meno dettagliato del database di Bloomberg però molto più aggiornato sulla piattaforma FinGPT c'è anche un esempio di forecaster web in cui uno può andare a inserire il ticker dell'azienda a cui è interessato nell'esempio ho messo this che è appunto la label che identifica la Disney può mettere un range di date perché ovviamente magari informazioni troppo vecchie non mi interessano neanche possono creare rumore rispetto a quella che è una previsione e vedete il response che mi è stato dato quindi tutta una serie di informazioni positive che possono contribuire ad accrescere la fiducia e anche il valore delle azioni Disney e un insieme di invece rischi o di informazioni che possono determinare un abbassamento delle azioni e infine un valore di analisi per esempio in questo caso quel giorno quando è stato lanciata la query c'era una predizione di un aumento del 5-7% delle azioni della Disney parliamo ora di piattaforme e iniziando col dire il perché mi può servire una piattaforma beh il primo motivo per cui mi può servire una piattaforma è sicuramente per gestire quella che ormai è la complessità di un'architettura a livello enterprise che voglia così organizzare tutti i dati che vengono prodotti da un'impresa e qui vedete uno schema tratto dall'IBM per cui diciamo viene evidenziati i vantaggi della piattaforma WatsonX ma il discorso mi interessa anche in generale per evidenziare appunto tutti quelli che sono i layer e la complessità che richiede una gestione dei dati fatta bene all'interno di organizzazioni complesse quindi c'è tutto un insieme di sorgenti differenti che possono essere database relazionali da cui vengono informazioni gestionali possono essere database no SQL possono essere documenti informazioni che arrivano da N dalle fonti più disparate e da queste fonti qui poi dopo ci vuole una pipeline che preveda un'acquisizione e un'integrazione di queste informazioni che può essere col tradizionale sistemi ETL quindi estraggo trasformo e ripulisco i dati e poi li carico oppure con più filosofie più recenti che sono invece ELT cioè estraggo carico tutto e poi dopo trasformo i dati una volta che li ho caricati in quelli che è il mio data lake e poi naturalmente anche se no strumenti per l'acquisizione di dati in tempo reale come possono essere service bus come Kafka o altri tutto questo poi deve essere conservato in un data warehouse barra data lake che magari è sul cloud e andare a creare una vera e propria data fabric che tenda di tenga conto di tutti quelli che sono anche i metadati quindi il knowledge catalog di informazioni devono essere taggati devono essere dichiarati tutte devono essere gestite tutte le problematiche relative alla privacy alla quality e alla gestione di tutte le informazioni per poi finire a fare gli insights quindi ad analizzare questi dati con strumenti di business intelligence di data mining e perché no al giorno d'oggi appunto con quello che sono gli strumenti AI e AI generativa in tutto questo poi affiancato da strumenti di governance di tutto l'architettura l'altro motivo molto forte è quello delle minimizzazioni dei rischi in quanto le piattaforme basate su AI generativa introducono anche nuove tipologie di rischi rischi associati alla qualità dei dati di input che ad esempio potrebbero essere soggetti a restrizioni legali o copyright oppure a bias oppure essere semplicemente inaccurati rischi associati all'output perché appunto potrei andare poi a esporre dati non miei o dati che mi portano alla violazione di copyright o anche semplicemente si espongono a problematiche relative a performance o a bias e anche all'utilizzo degli stessi e tutto questo crea delle sfide sfide importanti che non possono non essere gestite e governate in modo appropriato questo anche per tutte quelle che sono le normative di legge in questa slide vediamo una panoramica di alcune di queste piattaforme attualmente più utilizzate considerando quelli che sono gli hyperscaler cioè servizi cloud che possono essere in grado di gestire enormi quantità di dati e di scalare i servizi quanto si voglia e fra questi troviamo IBM con Watson X Amazon Google ovviamente e Microsoft Azure e la sua soluzione basata su OpenAI poi ci sono tutta una serie di altri competitor molto importanti che svolgono coprono l'intero ciclo o hanno comunque piattaforme particolarmente interessanti anch'essi come tutte le soluzioni basate su Nvidia ad esempio Databricks e altre che vedete qua citate infine qualche ulteriore breve considerazione in generale sulle piattaforme vedete qui alcuni punti in rosso come punti di attenzione e che fra questi abbiamo ad esempio il fatto che molte di queste sono praticamente estremamente giovani e tutte sono estremamente giovani per cui alcuni servizi possono essere addirittura ancora in versione alfa o ebeta e proprio per questo motivo spesso l'accesso è ristretto a questi servizi sperimentali solo a partner elegibili che devono compilare dei form e devono richiederne l'accesso alcune di queste risorse sono limitate quindi non sono disponibili in data center in tutto il mondo ma solo in alcune regioni e per diciamo l'utilizzo di queste piattaforme sono comunque necessari dei percorsi di qualifica e delle professionalità che non sono facilmente rintrovabili perché assolutamente nuove come ad esempio il prompt engineer cioè l'esperto di come impostare le domande giuste o i dati giusti su queste piattaforme peraltro diciamo alcuni punti verdi e di interesse sono il fatto che in questo momento c'è grande interesse anche dagli stessi provider a far conoscere a sperimentare su questi modelli e quindi anche grandi investimenti e road map accelerate che vengono proposte sia ai partner che condizioni speciali di accesso e promozione per i primi utilizzatori che vanno poi ad adottarle bene ora andremo a fare un piccolo drill down o un approfondimento su una di queste piattaforme di supporto ai sistemi di intelligenza artificiale generativa e in particolare andremo ad analizzare la soluzione basata su Microsoft Azure e OpenEye c'è da dire che la collaborazione fra Microsoft e OpenEye non è tanto recente già dal 2019 Microsoft ha investito più di 13 miliardi di dollari in OpenEye e Foundation e in cambio sta integrando questa tecnologia in particolare quella di ChatGPT nel suo motore di ricerca Bing in altro software nell'RP e nel CRM nonché negli strumenti di GitHub questo per la produzione automatica di codice e nel pacchetto Office 365 ma in più offre anche la tecnologia OpenEye come add-on della piattaforma e delle soluzioni cloud Azure che è quella che andremo ora ad approfondire ok qui vedete la console di Azure e in particolare delle suite dei servizi di intelligenza artificiale e fra di essi trovate alcuni che sono quelli diciamo di altre applicazioni dell'intelligenza artificiale ad esempio applicata alla ricerca o alla visione dei computer ma anche trovate Azure OpenAI dopodiché si va ad andare a creare appunto uno di questi servizi andando a selezionare la regione di interesse regione che non può essere una qualsiasi perché solo alcune regioni hanno a disposizione alcuni servizi qua nell'esempio per esempio ho deployato dei servizi in Francia vedete France Central e in Sweden in Svezia nella Svezia centrale dove per inciso ci sono molti farm cloud non solo Microsoft ma anche di altri importanti provider ecco una volta entrati in uno di questi servizi uno dei tool che vengono offerti molto interessante è OpenAI Studio che serve per fare prove e test sui vari servizi offerti dalla piattaforma OpenAI ecco vedete questa è la schermata di ingresso di OpenAI Studio Playground dove vedete che ci sono varie possibilità di suggerimenti e di toolkit per iniziare ad esempio a sviluppare applicazioni per fare chat quindi chatbot oppure altri servizi di creazione generazione test o anche come con il software Dalle Playground per generare immagini sulla piattaforma vengono offerti numerosi modelli qua vedete ad esempio quelli selezionabili nella regione che abbiamo preso che in questo caso è la Francia centrale vedete che possiamo usare varie versioni di dgpt la 3.5 la 3.5 turbo alla 4 e un'altra versione 4 32k che è una versione estesa e più potente che è in grado di supportare un numero maggiore di token quindi di testo di ingresso e di uscita da analizzare e poi generare un altro aspetto molto interessante è quello del controllo e del filtering come dicevamo nelle slide precedenti l'intelligenza artificiale generativa pone nuove sfide una di queste è sul tipo di contenuti che vengono generati che potrebbero essere contenuti che possono anche offendere le sensibilità di alcuni e per questo motivo è possibile filtrare un livello di filtraggio dei contenuti sia su cui vengono basati i prompt in ingresso che il testo in uscito che a seconda di varie tipologie di contesto quindi sessuale violenza eccetera uno può decidere se fra virgolette tener un livello di censura o di tono più o meno elevato sono quattro i livelli il livello più alto richiede un'approvazione esplicita c'è inoltre da dire che microsoft monitorizza in modo automatico anche con degli operatori o si riserva il diritto di monitorare come viene utilizzato il servizio per assicurare che non vengano utilizzati in modo improprio è comunque possibile fare una richiesta esplicita a microsoft per disabilitarlo nel caso in cui vi siano dati sensibili o che si vuole mantenere confidenziali vediamo ora finalmente qualche prova che abbiamo fatto o pratica proprio utilizzando la piattaforma in questo caso appunto Azure OpenAI il primo esempio che vogliamo mostrare è quello di una catena di ristoranti che abbiamo immaginato si possa chiamare pfood e l'analisi di una mail di riclamo che abbiamo sottoposto al sistema guardate che la mail è stata diciamo anonimizzata abbiamo cambiato alcuni dettagli ovviamente per ragioni di privacy è abbastanza complessa e anche un po' divertente nel senso che se leggete c'è questo persona che il nome è inventato Giacomo di Pasqua che segnala a un'assistenza della nostra catena di ristorazione un problema che ha avuto mangiando un'insalata Caesar e una volta aperta la confezione all'interno vi ha trovato niente meno che un bruco che peraltro aveva anche lasciato i suoi bisognini su una foglia di insalata e allora fa anche una battuta e dice che appunto nonostante le proteine che possiede questo minimale ovviamente non l'ha mangiato e che non si è voluto trasformare in beer grills e allega anche una foto di quello che ha riscontrato tanto come annotazione sono andato a chiedere al sistema anche chi è beer grills e lui mi dice che è un noto avventuriero britannico che ha fatto numerose trasmissioni televisive che immagino molti di voi conoscano e che una di queste era proprio una in cui andava a mangiare le cose e gli insetti più strani e aveva avventure con questi animali o che cosa abbiamo fatto noi abbiamo chiesto sulla base della mail precedente di estrarre tutta una serie di informazioni che poi dopo possiamo poi andare a mettere sul nostro sistema di ticketing o di assistenza e quindi gli abbiamo fatto questa richiesta qua gli abbiamo detto genera un riepilogo della mail nel seguente formale nome del mittente cognome mail data della mail prodotto se c'è stata una rinchiesta di indennizzo e un riassunto di quello che c'era scritto la completion cioè la risposta al nostro prompt del sistema è stata la seguente vedete che ha riconosciuto che il nome era Giacomo il cognome di Pasqua notate che è un cognome composto ma ha capito che era tutto cognome la mail la data della mail il prodotto interessato l'insalata Caesar una richiesta di indennizzo e poi un riassunto molto preciso il cliente ha acquistato un'insalata Caesar presso uno dei punti di vendita della società e ha trovato un bruco nel prodotto ha dovuto interrompere il passo e cercare un'alternativa spendendo altri soldi ha chiesto un risarcimento per l'inconveniente questo invece è un altro esempio molto interessante in cui ci siamo immaginati di essere un'agenzia viaggi che essendo oggi qui a parlare con voi da Ferrara abbiamo chiedato il nome di viaggi Ferrara 360 e abbiamo provato ad analizzare una possibile conversazione tra un utente che contatta un agente dell'agenzia per organizzare un viaggio vedete qui la conversazione è abbastanza complessa ci vuole un po' a leggerla tutta quanta e quindi un operatore che poi deve estrarre questi dati ci piega alcuni minuti vi faccio solo notare l'utente inizia la conversazione segnala il periodo in cui vuole andare via l'importo che ha disponibile l'agente gli risponde proponendogli tutta una serie di possibili mete l'utente decide e sceglie di andare in Giappone poi chiede informazioni sugli hotel l'agente risponde proponendo diciamo così uno specifico hotel in questo caso l'hotel Sugoi fornendogli le date alcune informazioni sull'hotel e il costo del pacchetto l'utente risponde che è interessato alla cosa e che accetta di una proposta per la prenotazione e quindi ci si lascia con una mail di attesa per ricevere l'itinerario questo è il prompt che abbiamo chiesto al OpenAI per analizzare tutto questo conversazione e abbiamo chiesto di riappilogare il problema del cliente il budget del cliente date città di partenza e di destinazione il costo del viaggio proposto l'esito della conversazione e le azioni per il follow up il sistema come ha risposto qual è stata la sua completion la risposta è questa il problema del cliente il cliente è la ricerca di suggerimenti su dove viaggiare con un budget di 4.000 euro partendo da Bologna quindi budget 4.000 euro data di partenza 25 agosto città di partenza Bologna data di destinazione 11 settembre città di destinazione Giappone il corso del viaggio proposto preciso e l'esito della conversazione il cliente ha accettato la proposta di viaggio ed ha chiesto di prenotare l'hotel Sugoi l'azione di follow up l'agente dovrà prenotare l'hotel Sugoi per il cliente e inviare l'iterrenario via email ma se questi due esempi sono interessanti secondo me il terzo lo è altrettanto se non di più in questo caso abbiamo provato a creare un servizio di chatbot e abbiamo pensato di provare a farlo per un ipotetico portale turistico di Ferrara e quindi cosa abbiamo fatto abbiamo fatto un setup indicando al servizio che si tratta di un servizio appunto per il portale turistico di Ferrara e che il nome del chatbot è Jerry e il cui scopo è quello di aiutare le persone a scoprire escursioni nella zona ne abbiamo detto che deve essere ottimista e amichevole che deve presentarsi al primo saluto e per aiutare le persone deve sempre fare queste tre domande chiedere dove si trovano quanto tempo hanno a disposizione e se intendono muoversi a piedi in auto o in bicicletta il chatbot poi dovrà fornire tre suggerimenti per escursioni che variano in lunghezza e condividere anche un fatto interessante sulla natura locale di Ferrara e fare una raccomandazione abbiamo quindi testato il servizio facendo un ipotetico provando un ipotetico colloquio di un utente con il chatbot questa qui è l'iconcina dell'utente che dice ciao e il chatbot risponde presentandosi come le abbiamo detto dicendo che è Jerry che è l'intelligenza artificiale del portale turistico di Ferrara e che il suo scopo è quello di aiutare le persone a fare dei viaggi e delle escursioni in zona il chatbot si raccomanda inoltre di fornire informazioni sul tempo di esposizione dove ci si trova e come ci si vuole muovere l'utente quindi dice sono a palazzo calcagnini cioè qui dove oggi stiamo tenendo questo evento allora il chatbot risponde grazie per la tua risposta palazzo calcagnini è un ottimo punto di partenza per esplorare Ferrara quanto tempo hai a disposizione e come preferisci muoverti a piedi in auto o in bicicletta allora vi ricordate che avevamo detto le tre domande sa dove vi trovate chiede anche il tempo e come intendete muovervi e l'utente risponde sono a piedi e quindi il chatbot dice perfetto quanto tempo hai per l'escursione l'utente fornisce infine anche questa risposta ho due ore di tempo perché devo rientrare a Bologna il chatbot quindi adesso ha tutti gli elementi che gli abbiamo detto di chiedere quindi dà una risposta complessa in cui viene ringrazia per le informazioni ricevute e propone tre itinerari effettivamente che partono da palazzo calcagnini e quelli non ve li sto a leggere però insomma uno diciamo è per andare a visitare il castello un altro alla cattedrale di San Giorgio e fare una pausa nei caffè delle vicinanze il terzo è per muoversi lungo le mura di Ferrara infine il chatbot come gli avevamo detto suggerisce un fatto interessante sulla natura locale in particolare segnala come Ferrara sia effettivamente la città famosa per muoversi in bicicletta per i ciclisti e infine fornisce anche una raccomandazione ricorda prima di partire di verificare gli orari di apertura dei luoghi che desideri visitare e augura una buona passeggiata bene spero che questi tre esempi vi abbiano dato qualche spunto qualche idea di che cosa può essere utile queste tecnologie nella vostra realtà nella vostra organizzazione e mi accingo a concludere con un altro paio di annotazioni che diciamo così la prima è quella che tutto il sistema ovviamente si basa sull'analisi di testo l'analisi del testo naturale però tramite convertitori può facilmente essere estesa a immagini ad audio o a video questo perché tramite sistemi ad esempio che estraggono il testo appunto dalle immagini o sistemi che estraggono il testo da un audio video il tutto può essere dato in pasto ai sistemi ai large language model e quindi si può ricavare la risposta e il tutto può essere riconvertito da testo a parlato un esempio può essere quello di analizzare un audio di una riunione oppure di un documentario o di un film dall'audio si estrae spezzoni di testo e quindi tracciando anche i tempi ricavare una sorta di indice automatico di riassunto in cui viene indicato che nei primi cinque minuti del video si parla di una certa cosa poi dal minuto il cinque al decimo l'argomento è un altro e così via e quindi l'utente può poi dopo non doversi ascoltare tutto il video per andare al punto in cui viene affrontato il tema che lo interessa ma l'intelligenza artificiale generativa in realtà non si applica solo ai testi ma può essere utilizzata anche per creare immagini ad esempio il modello Dali sempre di OpenAI è disponibile su Azure consente di creare immagini più o meno fotorealistiche a seconda di quello che si vuole e abbiamo provato anche questo nell'esempio che vedete abbiamo chiesto al sistema di presentare un scenario con una foresta in cui sono presenti persone e tigri e vedete che il risultato è esattamente coerente con quello che abbiamo chiesto è stata generata un'immagine di questa foresta con alberi felci tutta una serie di persone che osservano guardano e delle tigri di vario colore aspetto e foggia e questo è un tema molto ampio che magari affronteremo in un altro evento questo è un altro esempio un po' più complesso in cui abbiamo dato una descrizione lunga in cui si chiedeva di fare una renderizzazione 3D di una tazza appoggiata su una finestra dove fuori c'è un temporale dando anche connotazione sull'atmosfera della stanza e addirittura su quello che c'è dentro la tazza come vedete è venuta fuori un'immagine molto molto interessante e fedele anche in questo caso a quello che è stato richiesto bene vi ringrazio molto per la partecipazione spero di avervi dato degli spunti o motivi di interesse qui trovate i miei riferimenti e passo la parola al prossimo relatore